Introduzione ai nuovi lettori di codici QR Green Pass di ZKTECO. Nonostante ogni paese europeo possieda la propria applicazione per visualizzare il codice, il database con il quale i dispositivi verificano le informazioni relative alla persona è comune per tutti i paesi membri dell'Unione. Il nostro primo rilascio, lo Z-Pad Plus QR, è un dispositivo Android che, una volta letta l'informazione contrastata con il server europeo, mostra in display il suo feedback riguardo la validità del codice appena letto. Ricordiamo a proposito che nessuno dei nostri dispositivi è progettato per immagazzinare le informazioni degli utenti, garantendo pertanto la massima confidenzialità. Una volta che il codice QR viene generato e visualizzato su uno schermo ad elevato contrasto e sensibilità, basta avvicinarlo alla telecamera del nostro lettore. La lettura avviene generalmente in frazioni di secondo.